ehi stai in là eh non è stato tanto qua perché dopo lì tu non ce la fai girà vai così vieni così stai in là lei vai in là vai tanto ora ti scoda dietro vai vai vieni Alberto no Alessandro fai lo passati qua oddiamine questo non è nulla questo dai ciao 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 ciao